Convergenza S.P.A. Società Benefit comunica che l'agenzia di rating, Sirid Rating Agency S.P.A., in una nota diffusa in data 28 aprile 2021, ha alzato il rating pubblico della società da B1.2 a B1.1 e confermato il rating pubblico B1.1 relativo al prestito obbligazionario di euro, 1 milione. Tasso variabile con scadenza 14 aprile 2027, messo in data 14 aprile 2020. L'upgrade del rating riflette il limitato impatto della pandemia Covid-19 sullo sviluppo del business, come emerge dal miglioramento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Grazie al reperimento di nuove risorse, favorito in parte dall'IPO, Convergenze evidenzia al 31-12-2020 una struttura finanziaria maggiormente bilanciata nonostante le importanti capex strategiche poste in essere. Secondo l'opinione di Sirid Rating Agency, tale equilibrio dovrebbe trovare conferma anche nel prossimo futuro a fronte di un mix di ricavi e di un portafoglio clienti, che consentiranno il conseguimento di adeguati margini reddituali e una maggiore capacità di autofinanziamento. Rosario Pingaro, CEO e presidente di Convergenze, ha così commentato l'upgrade del rating su Convergenze SPA, Società Benefit e la conferma del rating sul prestito obbligazionario, testimoniano la validità della scelta strategica effettuata in passato e ci dà ulteriore slancio per affrontare le sfide future dopo il successo della quotazione sul mercato AIM Italia. Convergenze è una realtà all'avanguardia, giovane e dinamica che grazie a nuovi investimenti punta a rafforzare la propria presenza in entrambi i mercati delle telecomunicazioni e dell'energia, con espansione a livello nazionale aumentando sia il fatturato sia la profittabilità. Cogliamo ogni opportunità con entusiasmo e i risultati stanno confermando l'efficacia della nostra organizzazione gestionale e del nostro impegno.